Un saluto a tutti amici di Let Me Play e bentornati sul nostro canale, sono Spadolano85 e in questo nuovo video stileremo una classifica di 8 titoli da giocare la notte di Halloween. La festa del terrore, dove adulti e bambini cercano di vivere una notte dedicata all'horror in maniera giocosa e allo stesso tempo spaventosa. Come abbiamo detto prima però, è una festa. E quale miglior modo di passare la notte più creepy dell'anno se no con un bel videogame horror? Ecco per voi la nostra top per festeggiare Halloween pad alla mano. Ci teniamo a precisare che i giochi in classifica appartengono a epoche diverse, quindi non disperatevi, se non possedete le console di ultima generazione abbiamo inserito 8 titoli per tutti i gusti. Dopo queste doverose premesse, se siete pronti, spegnete le luci e godetevi la nostra top giochi horror da giocare a galleria. In ottava posizione, Obscure. Cominciamo la nostra top con un horror reperibile per PlayStation 2 e Xbox. Obscure è ambientato in un liceo americano dove 5 studenti scoprono che l'edificio è in realtà un vecchio laboratorio dove venivano fatti degli esperimenti scientifici. Il gioco segue un filo narrativo classico da Teen Movie dei primi anni 2000 ma presenta un gameplay non troppo complesso e un utilizzo di tutti i personaggi giocabili innovativo per l'epoca e davvero ben strutturato. Un gioco passato in sordina ma che secondo noi merita una piccola opportunità. In settima posizione, The Evil Within Si passa i giorni nostri con questo titolo creato dalla mente geniale di Shinji Mikami. Il padre di Resident Evil è tornato nel 2014 con questo horror psicologico. Nei panni di un poliziotto vi ritroverete ad affrontare una maledizione che colpisce un ospedale psichiatrico per poi diffondersi in tutta la città in un misto tra realtà e follia che metterà a dura prova la vostra sanità mentale e quella del protagonista di questo piccolo capolavoro. In sesta posizione, Outlast Proseguiamo con un'altra piccola perla diventato uno dei punti saldi per gli amanti di questo genere. Outlast è un'esperienza davvero terrificante. Nei panni di un giornalista armato di telecamera ci ritroveremo a vivere un incubo fatto di nascondigli, attese e fuga al momento giusto. Un titolo martellante che ha ispirato molte produzioni horror più recenti. Se non lo avete ancora provato, correte a prenderlo. In quinta posizione, Clock Tower Facciamo un grande salto nel passato fino al 1996 per rivivere le sensazioni di Clock Tower. Un'avventura grafica punta e clicca con una storia che punta di più sulla maturità senza far uso di zombie e altri cliché che fino a quel momento avevano invaso le altre produzioni. La protagonista, Jennifer, tornerà a rivivere un incubo passato che prende il nome di Shissorman, un uomo di cui si erano perse le tracce che tornerà a devastare l'esistenza della ragazza. Tra enigmi e colpi di scena mai scontati, questa avventura vi terrà incollata ai poligoni della vostra vecchia PlayStation 1 e soprattutto vi farà conoscere uno dei villain più iconici di tutto il panorama videoludico. Questo gioco è una perla da recuperare assolutamente anche a fine collezionistico. In quarta posizione, The Earth Space Non siamo sul podio ma poco ci manca per questo autentico capolavoro del genere horror sci-fi. In The Earth Space tutto sembra funzionare alla perfezione. L'atmosfera della nave spaziale Ishimura, il gameplay e la trama sono solo tre delle qualità che questo gioco ha da offrirvi. Nei panni del protagonista, Isaac, vivrete una delle esperienze in terza persona più terrificanti mai provate. Protagonista di tre capitoli, potete gustarvi questa perla dell'horror sia su PS3 e Xbox 360. Volete sapere qual è il vero problema di The Space? Beh, fa davvero paura. Provare per credere. In terza posizione, Resident Evil 7 Il terzo gradino del podio va a Resident Evil 7. Il cambio di rotta di Capcom per questo Resident Evil è stato netto, forte e sicuramente azzeccato. Il passaggio alla prima persona ha fatto sì che questo capitolo della serie sia uno tra i più riusciti e soprattutto spaventosi. Jumpscare ovunque, una grafica pazzesca, è una trama che si stacca completamente dai vecchi capitoli, ma che ha saputo coinvolgere e convincere chi credeva nel fallimento di questo Resident Evil. Se volete passare una notte da incubo, dovete assolutamente provare questo titolone e se volete un'ulteriore scarica di adrenalina, si consiglia l'uso della realtà virtuale, ma solo a quelli forti di cuore. In seconda posizione, Alien Isolation Si torna nello spazio con una delle trasposizioni da cinema videogame meglio riuscite degli ultimi dieci anni. Alien Isolation può essere considerato come un vero colossal per gli appassionati della saga cinematografica. Il terrore provato sulla stazione spaziale Sevastopol, braccati dall'Alien, è un'esperienza che vi lascerà sconvolti. Portare a termine questo titolone non sarà semplice, ma vi assicuriamo che per quanto riguarda la parte horror, Alien Isolation vi farà vivere momenti di vero terrore. Il consiglio maggiore che possiamo darvi per vivere al meglio la notte di Halloween e guardare il capolavoro diretti da Ridley Scott e poi buttarvi a capofitto in questo fantastico videogame. Prima di scoprire la prima posizione facciamo un piccolo recap di questa top. In ottava posizione Obscure, in settima posizione The Evil Within, in sesta posizione Outlast, in quinta posizione Clock Tower, in quarta posizione The Space, in terza posizione Resident Evil 7, in seconda posizione Alien Isolation, e quello che per noi è il gioco horror per l'eccellenza che vi terrorizzerà nella notte di Halloween è... Silent Hill 2. Sarà banale o scontato, ma nella nostra prima top dedicata ad Halloween non potevamo non mettere Silent Hill e in particolar modo il secondo capitolo. Questo videogame è poesia pura in chiave horror, un'esperienza che in qualsiasi epoca, in qualsiasi momento lo giocherete, vi lascerà davvero senza fiato. Tutto in Silent Hill 2 sembra costruito con amore, dalla storia al gameplay, passando per la grafica pazzesca e i nemici iconici ancora oggi. L'incontro con Pyramide Head non si scorda facilmente, e camminare tra le vie di Silent Hill con una colonna sonora da urlo non è da meno. Se siete appassionati di questo genere, lasciatevi trasportare da questo videogame considerato uno dei più belli in assoluto. Un racconto fantastico che una volta finito non dimenticherete più. Per questa nuova top di Let Me Play è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e che i giochi siano stati di vostro aggredimento. Fateci sapere quali avreste voluto vedere e con quale passerete la notte più horror dell'anno. Noi vi auguriamo un buon Halloween e vi rimandiamo ai prossimi video. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Ciao! Grazie per l'attenzione e alla prossima.